Sono sicuro che Dio mi ama. Bisogna ripetere come una preghiera questa certezza che nessuno può toglierci. Papà Francesco lo ha ribadito all'udienza generale in Aula Nervi, continuando le sue catechesi sulla speranza cristiana. Prendendo spunto dalla lettera romana nella quale San Paolo parlava del bantarsi, il Pontefice ha invitato a non essere pavoni, ma a leggere ogni cosa alla luce dello Spirito Santo, ad accorgersi che tutto è dono e grazia. Solo così, sia in pace, si fa esperienza di libertà, in famiglia, al lavoro, con chi incontriamo. E la pace del Signore si sperimenta soprattutto nella tribolazione. In quel momento, affermato il Papa, viviamo l'esperienza dell'amore di Dio che non ci lascia mai soli. La sua misericordia e bontà sono più grandi di ogni cosa. La speranza cristiana è dunque solida perché non delude mai. La speranza che ci è stata donata non ci separa dagli altri, né tanto meno ci porta a screditarli o emarginarli. Si tratta invece di un dono straordinario, del quale siamo chiamati a farci canali, con umiltà e semplicità per tutti. E allora il nostro vanto più grande sarà quello di avere come Padre un Dio che non fa preferenze, che non esclude nessuno, ma che apre la sua casa a tutti gli esseri umani, a cominciare dagli ultimi e dai lontani, perché come Sui figli impariamo a consolarci e a sostenerci gli uni agli altri.